buongiorno ragazzi finalmente torna il football torna l'inter mi raccomando per chi volesse sostenere il canale iscrizione gratis basta un semplice click clicca qui e iscriviti se ti fa piacere altrimenti due chiacchiere le si fanno lo stesso allora siccome ieri sera è scoppiata un po' di eh la bomba giudato e ora molti molti tifosi addirittura si preoccupano il Napoli può diventare una seria una seria concorrente io sinceramente ho molti dubbi sul Napoli eh ho molti dubbi sulla gestione eh di Conte anche perché io ricordo che Conte magari anni fa poteva essere un allenatore ricercato un allenatore bravo ma un allenatore bravo due anni senza contratto secondo me non ci sta discorso di di Giudacu il discorso Giudacu è che eh Conte dice che in Napoli con il quattro tre tre è arrivato decimo ma Conte se continua con questo tre cinque due arriva decimo anche lui tra l'altro non penso che possa fare come a Tottenham dove mise tutti i giocatori fuori ruolo eh Napoli ha degli attaccanti esterni a quattro attaccanti esterni uno più bravo di un altro che è quello del Verona Neres Varaschelia e Politano e nessuno di questi ha movimenti da seconda punta quindi nessuno può stare accanto a Lukaku questi sono tutti attaccanti esterni tra l'altro eh vieni qua vieni qua ragazzi saluta 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 ai ragazzi del lì dove è parrucca parrucca è a Napoli non c'è più parrucca tra l'altro bisogna dire una cosa che eh non c'è più Pintus Lukaku non è più quello di quattro cinque anni fa e secondo me non giocando con una punta d'appoggio ovvero sia con una seconda punta Lukaku dura molta fatica perché non eccelle certo per intelligenza tattica perché ragazzi avere di fianco una seconda punta ed avere due due attaccanti esterni cambia molto ti cambia la vita come attaccante quindi quella seconda punta che gioca un po' anche per te eh è molto più semplice perché ehm i movimenti che fai con una seconda punta che ti rende anche gli spazi non sono i movimenti che devi fare quando hai due attaccanti esterni i movimenti i senza palla che devi fare quando hai due attaccanti esterni sono molto più complicati rispetto ai movimenti che devi fare con una seconda punta Lukaku fece benissimo all'Inter anche grazie a Lautaro Martinez ragazzi ma di cosa stiamo ragionandovi? Cioè Lukaku eh do l'ultima stagione buona che ha fatto l'ha fatta all'Inter poi ovunque è andato gli hanno tirato i pomodori di cosa ragioni? Perché poi la seconda punta ti apre gli spazi eh capito ed accentra su di sé molte marcature capito lasciando libero la prima punta quindi secondo me Lukaku si giocherà con due attaccanti esterni per fartela breve e durerà molta ma molta più fatica rispetto a quello che ha durato anche a Roma anche se dice Conte che lo tratta come un figlio gli fa il ragù Conte gli fa tutto a Lukaku però lo vedo appesantito lo vedo fuori forma lo vedo strutturalmente diverso Lukaku rispetto a quattro cinque anni fa quindi e non è un attaccante secondo me che può giocare sia con una seconda punta e sia con due attaccanti esterni Lukaku è uno che ormai deve giocare con una seconda punta e chi dà una mano lì accanto quindi vedremo questo super investimento che ha fatto il Napoli si parla di 30 milioni per il cartellino 7 milioni all'anno a lui secondo me è un investimento folle ma il giudice supremo ragazzi è sempre il campo allora manca Lautaro purtroppo continuano ma era prevedibile gli infortuni muscolari soprattutto cambiando preparazione Lautaro non si è mai fermato l'anno scorso è dovuto rientrare prima delle vacanze quindi insomma ci può stare un piccolo stop vedremo titolare forse Taremi non lo so se entrerà il ballerino penso giocheranno un po' tutti davanti stasera eh Lecce è una squadra che comunque corre una squadra che cerca di giocare a calcio eh non c'è altro risultato ragazzi che i tre punti perché questo soprattutto dopo il pareggio di Genoa con i Genoa è salsino pieno c'è tutto il board di quindi bisogna fare bella figura poi magari della partita parliamo più tardi vi saluto ragazzi vado a fare una corsettina antipancetta perché qui in queste fede sto mangiando veramente tanto troppo ciao inter iscrizione al canale e attivate la campanellina perché torneranno le live serali ciao inter grazie grazie grazie